Gigi a tutti ragazzi sono Elien e oggi ho intenzione di rispondere ad una delle domande più in voga degli ultimi giorni e scusa quella del cosa chiedere a San Gennaro scusate non ho resistito comunque sul serio ora vorrei darvi uno strumento più che realizzare una vera e propria guida al momento per facilitarvi il ritrovamento dei tanto famosi frammenti calcificati essenziali per acquisire il tocco del male splendido fucile da ricognizione esotico dove uno dei requisiti richiede di collezionare 45 frammenti per non parlare del simulatore dormiente che impone il ritrovamento di tutti e 50 i frammenti o perlomeno dovrebbe essere questo il requisito anche se non c'è ancora la matematica certezza beh quello che dovete fare è andare su questo sito calcified-fragments.erokuapp.com e vi troverete davanti a questa pagina dovete scegliere la vostra piattaforma di gioco e inserire il vostro tag a sinistra e poi cliccare su get my fragments il sito genererà poi una pagina con tutta la lista dei frammenti calcificati però dicendovi anche quali avete preso e quali no e per ogni frammento c'è il video annesso su come prenderlo e i video altro non sono che un collegamento ai video di Datto Das Destiny a mio parere il miglior youtuber di Destiny al mondo che ha già realizzato una guida completa su tutti i frammenti attualmente conosciuti nei suoi video potrete vedere step by step come prendere ogni singolo frammento visto che nella pagina trovate il link ai suoi video con tanto diminuto quindi non dovete neanche stare a scomodarvi a cercare il frammento all'interno dei suoi video la pagina lo fa già per voi come funziona quindi il sito? beh tramite una ricerca sul vostro gamertag confronta il vostro punteggio Grimorio come sappiamo ad ogni frammento equivale una carta Grimorio quindi il sito non fa altro che confrontare le carte che avete sbloccato e quelle da sbloccare dicendovi quindi quale avete preso e quali dovete ancora prendere per esempio io devo prendere il frammento 18 Leviathan Rises e lo trovo nella missione di storia Regicidio ci sono altri che si prendono negli assalti o nell'incursione la caduta di un re oppure nella corte di Oryx di livello 2 e 3 ecco e a proposito delle corti di Oryx il frammento lo ottenete solo se siete voi a chiamare la runa non basterà semplicemente partecipare ad una corte di Oryx ammazzando il mostro in questione dovrete chiamarla voi pare o perlomeno per me è stato così e anche per altri come vediamo ci sono tre frammenti con su scritto unknown proprio perché appunto non si conosce ancora la location per prendere questi frammenti ma state certi che quando sarà chiara a tutti in questa pagina ci saranno i riferimenti tutto qui semplice semplice chiaramente poi cercherò di farla io una guida completamente in italiano ai frammenti calcificati se ce ne fosse bisogno ma per adesso sono sicuro che già questo strumento che vi sto dando sia sufficiente ad aiutarvi nell'impresa un'ultima cosa prima di lasciarvi contate che questo sistema non tiene conto dei frammenti presi con più personaggi funziona sulle carte Grimorio quindi se avete due o tre personaggi e avete preso che ne so il frammento 12 con il primo personaggio il frammento 20 con il secondo lui vi dirà che avete già preso entrambi i frammenti come invece sappiamo ciascun personaggio ha la sua conta di frammenti presi non è che se li prendete con il primo personaggio valgono anche per gli altri funzionano come le casse d'oro praticamente quindi attenzione il sistema tiene conto dei frammenti che avete scoperto con qualsiasi personaggio il mio consiglio è di concentrare solo un personaggio nell'acquisizione dei frammenti e non prendere altri frammenti con gli altri a meno che appunto non abbiate già preso tutti e 50 frammenti con un personaggio bene è tutto amici miei grazie per essere stati in mia compagnia un ringraziamento a steven lu che ha realizzato questa pagina e un plauso adatto per aver realizzato la guida più completa esistente ai frammenti calcificati alien vi saluta love and peace that came from the moon Grazie a tutti.